Salve, mi chiamo Lucas. Trovami l'albero con questa foglia. Una magica avventura. Che unirà due mondi. Si dice che ninfe dell'acqua e spiriti degli alberi possano intrappolarti con il solletico. Quell'umano non è diverso da tutti gli altri. Mi ha regalato sensazioni che non avevo mai provato prima. Mavka e la foresta incantata. Dal 20 aprile solo al cinema. Grazie a tutti.